Questa mattina parliamo di sicurezza stradale, una storica campagna che invita alla prudenza soprattutto nel periodo estivo quando c'è un incremento maggiore di automobili e di spostamenti sulle strade italiane. Parliamo della storica campagna di sicurezza stradale, vacanze con i fiocchi del centro Antartide di Bologna. Siamo collegati con la sua vicepresidente Sara Branchini. Buongiorno Sara, benvenuta. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, ho detto storica perché ormai da anni facevamo la radio, ci collegavamo tra giugno e luglio con il centro Antartide di Bologna per presentare appunto questa campagna vacanze con i fiocchi che invita a fare che cosa? È una campagna che appunto nasce nel 1999 e che insiste su questo dato che l'estate, il momento dell'anno in cui ci mettiamo tutti più in macchina per raggiungere le mete delle vacanze e a questo metterci più in alto è legato anche un aumento degli incidenti e delle vittime della strada. E se andiamo a vedere i dati, tra l'altro è uscito il nuovo rapporto di ACE e ISTAT sulla sicurezza stradale che analizza i dati del 2022. Se andiamo a vedere questi numeri è molto chiaro come la maggioranza assoluta degli incidenti stradali dipende dai comportamenti individuali, dal rispetto delle regole, della prudenza, dell'attenzione. Quindi la campagna con lo stile storicamente leggero e con messaggi appunto molto anche ironici e legati al sorriso invita ad adottare comportamenti prudenti quando ci si mette la guida. Quest'anno in particolare il focus è quello dell'uso dei dispositivi digitali alla guida senza demonizzare ma è chiaro che il primissimo, la prima causa di incidente è la distrazione alla guida e la prima causa di distrazione è quella legata in questo momento all'uso del cellulare o di altri dispositivi dei quali appunto non possiamo più fare a meno in nessun momento della giornata. E quindi la campagna attraverso alcuni materiali che gireranno in parte online ma che verranno anche distribuiti in alcuni punti come ad esempio in alcuni caselli autostradali invita proprio a un uso il più possibile responsabile degli smartphone e altri dispositivi quando ci mettiamo al volante specialmente in questo momento delle ferie, delle vacanze che può anche diventare un'occasione per in qualche misura disintossicarsi dall'uso continuo che facciamo del digitale. Infatti sono tre, ecco vediamo l'immagine ormai storica di Snoopy alla guida sorridente che appunto va in vacanza e voglio ricordare anche, ecco Sara, appunto abbiamo visto questa bella immagine, ricordavamo una campagna storica quella del centro Antartide di Bologna che avete in qualche modo individuato tre parole chiave che sono organizzarsi, riposarsi e disconnettersi. Lo dicevi anche tu, siamo sempre alle prese con questi dispositivi, con i nostri device, tablet, iphone, smartphone e altro però la vacanza potrebbe anche essere un modo per disconnettersi, per disintossicarsi dal digitale. Esatto, sì da qualche anno diciamo che i temi più in generale della sostenibilità non solo ambientale sono entrati nella campagna anche attraverso questa collaborazione che parte dall'uso che è stato fatto fin dal primo anno dell'immagine di Snoopy, adesso i Peanuts hanno proprio una campagna mondiale che si chiama Take Care with Peanuts che invita a una serie di comportamenti responsabili in vari ambiti anche proprio attraverso l'uso delle loro immagini e dei loro prodotti e come dicevo da un po' di anni l'invito è quello non solo alla prudenza ma anche allo scoprire gradualmente delle altre modalità di viaggiare e di fare vacanze che possono partire appunto da un'organizzazione che magari in prima battuta possa dove è possibile non prevedere proprio anche l'uso dell'auto quindi spostarsi con mezzi pubblici sostenibili il treno o altre modalità o anche altrimenti laddove si prevede comunque l'uso della macchina per arrivare a destinazione trovare dei modi per usare un turismo anche lento delle modalità di scoperta che chiamiamo anche slow nei vari territori e questo è un tema che è anche portato avanti dai nostri tre testimonial storici che sono Tessa Gelisio, Patrizio Roversi, Luca Mercalli tutti e tre divulgatori e particolarmente attivi in tema di sostenibilità e approfitto anche per ricordare che questa è la prima campagna che facciamo in questa 24esima edizione senza il nostro storico primo testimonia che è sempre stato Piero Angela dalla prima ora e a cui quest'anno insomma nei materiali dedichiamo anche un ricordo molto affettuoso e di gratitudine per averci accompagnato in tutto questo lungo percorso. E infatti ricordo gli spot radiofonici con la sua voce se non se non ricordo male è proprio così allora abbiamo appunto ricordato questa importante campagna di sensibilizzazione del centro antartide di Bologna vacanze con i fiocchi troverete immagino dei volontari giusto Sara nei principali caselli autostradali italiani. Esatto volontari e agenti delle polizie locali che aderiscono. Benissimo quindi distribuiranno pieghevoli immagino materiale ma soprattutto stanno lì per ricordarvi e per ricordarci che bisogna guidare con attenzione ed evitare le distrazioni perché appunto tra le cause insieme maggiori di incidenti c'è proprio la distrazione. Allora vi troviamo anche sui social Sara immagino di sì. Esatto sì c'è una pagina Facebook che dall'evento di lancio di questo sabato sarà animata con anche dei piccoli approfondimenti dei messaggi dei testimonial dei contenuti dedicati e per il primo anno quest'anno sarà attivata anche la pagina Instagram che proporrà appunto sia contenuti di approfondimento che un po' il racconto di quello che succede sui vari territori della campagna perché lo ricordo i partner sono poco più di un centinaio è una campagna che appunto si costruisce proprio attraverso l'adesione di soggetti su tutti i territori nazionali che sono amministrazioni comunali, aziende sanitarie, società autostradali, associazioni e anche appunto radio e media che ci danno una mano a portare avanti questa campagna di sensibilizzazione. Grazie Sara. Allora vi seguiremo sulle vostre pagine social dove troveremo anche informazioni e suggerimenti per viaggi più piacevoli e sicuri. Ricordiamo l'hashtag vacanze coi fiocchi e WCF quindi vacanze con i fiocchi 2023 quindi l'anno, questa estate che ormai è nel suo pieno. Grazie a Sara Branchini vicepresidente. Presidente del centro Antartide di Bologna per essere stata con noi. Restiamo a disposizione anche per altre iniziative e altre notizie da commentare insieme. Benissimo. Grazie. Buon proseguimento. A te buona giornata e buone vacanze con i fiocchi. Allora ci fermiamo qualche istante di nuovo linea alla regia e poi torneremo di nuovo insieme in diretta. State con noi. Grazie. Grazie.